Wolfgang Amadeus Mozart Ciao, il mio nome è Wolfgang Amadeus Mozart Sono nato a Salisburgo, in Austria, nel 1756. A tre anni ho iniziato a suonare il clavicembalo insieme a mia sorella. Poi ho imparato a suonare il violino, il flauto e il clavinetto. Tutti dicono che ero un bambino prodigio, perché ero particolarmente talentuoso. Già a cinque anni avevo scritto le mie prime composizioni. Quando ho compiuto sette anni, mio padre insieme a mia sorella mi portò con sé in tutta Europa per fare concerti. Ero talmente bravo che a otto anni fu invitato persino a corte della regina d'Inghilterra per suonare insieme a lei. Durante la mia vita ho composto tantissimi capolavori. Te ne voglio far sentire alcuni. evo anche molto allegro e matacchione. Mi piacevano tanto le feste. Purtroppo, però, quando avevo 35 anni, mi sono ammalato gravemente e sono rimasto senza soldi. La mia ultima composizione è stata la messa di Requiem, in re minore, K626, rimasta incompiuta. Sono morto il 5 dicembre del 1791, a Vienna, in Austria, e vengo sotterrato in una fossa comune. Solo pochi amici mi hanno accompagnato al cimitero. Sono considerato come uno dei più grandi compositori per aver creato bellissime melodie che continuano ad essere eseguite ed amate da persone in tutto il mondo. E sono così famoso che mi hanno pure dedicato questi famosi cioccolatini che si chiamano le palle di Mozart. Credetemi, sono buonissimi! Ciao, ci vediamo al prossimo video! E per non dimenticarmi, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, attivate la campanella per ricevere un po' di notifiche, commentate, condividete e seguici!